Una cupola affaristica interna alla pubblica amministrazione in grado di pilotare nomine e appalti, di indirizzare delibere e altri provvedimenti. E' l'ipotesi investigativa alla quale starebbe lavorando Desiree Di Geronimo, PM della procura antimafia di Bari, titolare dell'inchiesta sulla sanità che rischia di sconvolgere gli ambienti politici pugliesi. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta del Mezzogiorno, la Di Geronimo si sarebbe imbattuta nel corso delle indagini addirittura in una serie di incarichi raddoppiati, soprattutto per quanto riguarda direttori sanitari, amministrativi e primari ospedalieri. In altre parole sarebbero stati nominati nuovi dirigenti ma la revoca del mandato ai vecchi sarebbe arrivata con colpevole ritardo, con il risultato di pagare due stipendi per lo stesso incarico a pesare così inutilmente sui bilanci delle aziende sanitarie. Le indagini non riguardano solo Bari e provincia ma anche Foggia e Lecce. Nel mirino le asole e gli ospedali riuniti. I carabinieri hanno acquisito atti negli uffici dell'assessorato della sanità anche nei giorni di Ferragosto e continuano incessanti le audizioni di persone informate sui fatti. La sensazione è che i risultati potrebbero essere clamorosi e provocare un vero e proprio terremoto.